C'è ragà bentornati sul mio canale youtube. Ieri è uscita una evoluzione molto simpatica che ci permette di andare a bustare delle carte praticamente basic bronzo in delle carte che risultano molto interessanti anche da poter utilizzare soprattutto all'interno di squadre un po' più esotiche. Oggi ci andiamo a vedere se siete curiosi quali sono secondo me i miei giocatori da andare a uppare. L'evoluzione in questione è la fast forward ovvero l'avanzamento rapido, una sfida che ci permette con 350 fc points o 75.000 credit di andare ad evolvere un giocatore che abbia overall di massimo 64 che sia come posizione un difensore centrale o comunque che abbia difensore centrale tra i suoi rolli alternativi abbia massimo 69 di velocità, massimo 62 di dribbling, massimo 67 di difesa, massimo 65 di fisico e massimo 7 playstyle e andremo a guadagnare così un più 1 di piede debole, il playstyle ovviamente base della scivolata dell'L2 e del mastino, più 25 di overall, più 16 di velocità, più 24 di fisico, più 23 di dribbling, più 22 di passaggio, più 10 di tiro e più 24 di difesa e in più la nostra carta andrà a diventare una carta radioattiva. Che cosa vuol dire? Che risulterà dunque molto più semplice andare ad ibridarla visto che basterà poi un solo punticino visto che le carte radioattivo vi ricorderete partono praticamente già da due punti di intesa. Ma detto questo andiamo a vedere quali sono secondo me i giocatori un po' più sfiziosi da andare ad evolvere all'interno di questa simpatica evoluzione che onestamente io vi consiglio però come al solito di sbloccare principalmente con gli fc points perché di andare a utilizzare quasi 100k per una carta bronzo che magari fate un po' più per ridere così per provare qualcosa di diverso o anche magari per poi ributtarlo all'interno di una sbc un po' gratuitamente secondo me è sempre meglio utilizzare gli fc points piuttosto che i crediti anche se i crediti comunque tra una weekend league e una rivals si rifanno tranquillamente. Il primo giocatore di cui voglio parlare è Michael Ondari a dopo dell'Atalanta. Un calciatore che era già possibile evolvere in altre sfide passate che però risulta molto simpatico soprattutto se avete una serie A. Per quale motivo? lui di base è un centrocampista ha ovviamente il difensore centrale tra i rolli alternativi ed è un bel bufalotto perché un metro e 87 di cristiano e in più andandolo ad evolvere guardate come vi diventa 81 di velocità 64 di tiro vabbè non ci importa però 82 di passaggio 84 di dribbling 86 di difesa e 88 di fisico 2 di skill che vabbè ovviamente per un medianazzo possiamo anche tollerare e 4 però di piede debole con work rate normale normale alla Yaya Toure quindi va un po' preso per le orecchie perché potrebbe un po' distrarsi sto a dopo e perdere le marcature però guardiamo anche le stats interne perché essendo un mostly lengthy quindi sfrutta maggiormente la velocità scatto che è 82 che è tanta roba ha dei passaggi clamorosi 94 di passaggio corto e 89 di passaggio lungo 85 di agilità e 77 di reattività che per un giocatore del genere con questa fisicità al quale mettiamo anche le l2 argento grazie a questa evoluzione e tanta roba statistiche difensive incredibili 84 di lettura 84 di intercetto 97 di forza e 89 di aggressività con la scivolata che andiamo a fargli guadagnare come playstyle e il mastino e quindi gli fa guadagnare tantissima irruenza nei contrasti per me questo è molto interessante da andare ad evolvere soprattutto non lo so se avete delle squadre serie a che state costruendo un po' più di backup questo qui è un bel mediano di rottura che si mette davanti la difesa e si fa un grandissimo filtro lo potete giocare chiaramente anche dc dc tra l'altro con dei piedi ottimi in fase di impostazione per poter far ripartire l'azione quindi lui molto carino il primo giocatore secondo di cui vi voglio parlare e ilan ok o giocatore francese del monaco che come potete ben vedere andrà andato a 10.000 credi quindi tocca anche in questo caso sniper arlo un bel cinghialotto pure lui di un metro 89 giovanissimo 21 anni andiamo a vedere quella che la sua carta è voluta che va a diventare un qualcosa anche qua di veramente incredibile perché 85 la velocità 70 di passaggio 77 di dribbling 87 di difesa e 88 di fisico con due dischi delle skill e tre di piede debole vabbè ma quello ci interessa relativamente essendo un difensore centrale andiamo a vedere le statistiche interne anche in questo caso ovviamente guadagna i tre play style dell'evoluzione 83 di accelerazione e 87 di velocità scatto 87 di passaggio corto ottimo sempre per un difensore centrale 85 di agilità 82 di equilibrio e 84 di reattività ragazzi i parametri di agilità praticamente non ce li ha neanche quasi il difensore migliore in assoluto al momento visto all'interno del gioco perché sono proprio dei parametri quasi da centrocampista ma centrocampista box to box alla modric 88 di intercetto 82 di lettura difensiva 93 di contrasto 90 di scivolata e in più 99 di forza con 99 di salto pecca leggermente in aggressività ma in questo caso noi andiamo a dare una mano magari con una bella ancoretta per renderlo un po più efficace quando appunto cerchiamo di andare a recuperare il pallone poi non solo è radiattivo e quindi già è aiutato sotto il profilo dell'intesa però essendo francese francese del monaco e francese dunque di ligand è molto più facile poterlo piazzare anche all'interno delle nostre squadre potrebbe essere anche lui un'opzione simpatica da poter inserire all'interno dei nostri team un altro giocatore che ritornando alla serie a potrebbe essere sfizioso e mario gila difensore spagnolo della lazio un metro 85 è dotato di un body type abbastanza importante vediamo la sua evoluzione da 64 diventa 89 con 82 di velocità 75 passaggio 84 di ribbing 88 di difesa e 88 di fisico 2 di stick kill e 4 di piede debole ovviamente anche in questo caso le statistiche interne sono delle grandissime statistiche interne guardate qua 85 di accelerazione e 80 di velocità scatto anche se qua relativo perché sapete che per i lenghi ti conta più la velocità scatto rispetto all'accelerazione 92 di passaggio corto e 89 di passaggio lungo 83 di agilità 92 di equilibrio e pecca leggermente nella reattività che 79 però con l l2 argento riusciamo ad avere un twist un aiuto in quella statistica poi abbiamo però 92 di contrasto scivolato 89 di contrasto in piedi 86 di mentalità difensiva e 83 di intercetto con 88 di forza 82 di aggressività e anche in questo caso 99 di jumping quindi di elevazione quindi giocatore molto caruccio anche questo qua per una serie a serie a dove comunque ci sono degli ottimi calciatori in quel ruolo lì che comunque non costano tantissimo vi ho già parlato un sacco di volte di bremer call lulu pure è sceso un po però sto gila magari siete fanno vi state buildando la vostra lazio tutta quanta full evoluta questo qui non è che ce lo mettete giusto per per ridere perché è utilizzabilissimo e quindi secondo me lo potete fare tranquillamente un'altra carta che si può tranquillamente fare è quella di andry blank che gioca nel borussia dortmund sì però questo è borussia dortmund 2 però guardate qua che carta perché un metro 84 quindi anche lui un bel difensore fisico e andandola ad evolvere con la doppia evoluzione in questo caso perché prima gli facciamo la peps legacy e poi facciamo la scusatemi non era non era questa l'evoluzione o un attimo avuto un attimo di defiance eccola qua prima gli facciamo la fast forward e poi facciamo la crossing crusader questo qui da 58 lo passiamo a 86 con 89 di velocità 79 di dribbling 85 di difesa e 84 di fisico e guardate qualche cartina 88 di accelerazione e 90 di velocità scatto 81 di passaggio corto 93 di agilità 92 di equilibrio 86 di reattività con l l2 argento e in più qui gli diamo anche degli altri play style che vabbè gli servono relativamente ma potrebbero sempre tornare comodo visto che questo può fare anche il terzino sinistro e ovviamente il mastino e la scivolata in più ci avrebbe 84 di lettura difensiva 85 di intercetto 90 di salto 91 di forza e pecca però un po in aggressività anche in questo caso gli diamo però un'ancoretta per aiutarlo qui onestamente peccato che sia del barossia d'ortmo 2 perché andandogli a fare come ultima evoluzione questa qui della crossing crusader gli togliamo il suo radioattivo però questo qua anche in in questo frangente risulta un'evoluzione abbastanza simpatica da potersi portare a casa ritorniamo in serie a e andiamo da axel gesson un giocatore francese difensore centrale dell'udinese un metro e 92 l'udinese praticamente c'ha dei bufalotti che evoluti sono clamorosi perché c'è anche quel christensen che è due metri eppure si poteva evolvere diventava clamoroso guardate qua con l'evoluzione anche in questo caso andando a combinare doppia evoluzione diventa molto carino perché facendogli prima la patrick hu e poi la fast forward da 59 passa 88 con 84 di velocità 77 di dribbling 83 difesa 88 di fisico e 72 di passaggio e in più questo è uno dei pochi che avrebbe anche il blocco argento quindi il classico playstyle che vi ho detto più volte essere meta per quanto riguarda i difensori centrali anche lui discretamente veloce 99 di passaggio corto 96 di equilibrio e 92 di reattività una roba fuori dal mondo 82 di lettura difensiva 94 di forza e 79 di aggressività anche qua gli diamo magari una mano con una bella ancoretta per cercare di renderlo ancor più aggressivo e la cosa simpatica di questo ghessan è che può fare anche il mediano mediano ovviamente con i piedi totalmente fucilati perché ha due di skill e tre di piedi debole però magari volendo essendo un metro e 92 questo qua lo piazzate davanti la difesa stile vieira praticamente e potreste divertirvi chiudiamo con l'ultimo giocatore che è guillaume molina spagnolo giocatore della liga che andando ad evolverlo va a diventare così 89 per lui con 80 di velocità 71 di passaggio 6 attori di libri 90 di mesi 87 di fisico 86 di passaggio corto 89 di passaggio lungo tanta roba e anche lui può fare il terzino anche se sia a sinistro che a destra un 80 di velocità ve lo sconsiglio 91 di agilità 93 di reactions e 96 di equilibrio una roba veramente clamorosa 95 la mentalità difensiva e 96 di intercetto 89 di aggressività e 82 di forza con 93 di salto anche questo qua giocatore che diventa veramente bello cagliardo e secondo me per tamponare pure se avete bisogno di riempire degli slot potete tranquillamente mettere raga anche per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti come al solito quali sono i giocatori che secondo voi risultano più efficaci all'interno di questa evoluzione fatemi sapere se avete voluto proprio uno di questi oppure quali e io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e non mi resta che augurarvi una buona domenica un saluto nel vostro iberoschi e presto ciao